stiamo uscendo da scuola eccoci andiamo a mangiare giapponese questa è la scuola di diawa ci stanno le classi fino alla terza media quindi si stanno otto classi ecco i polmini vabbè io c'ho fame andammo a mangiare perché c'ho fame però dopo l'abbiamo ordinato e stiamo facendo tutti i tuoi video perché prendiamo a mangiare facendo video per youtube e io al video vegetariano aspetta quale volevi questo vegetariano e prenditelo mettiamo il sushi vegetariano metti aggiungi basta va bene poi ci sono io chiediti apriamo le bacchette spiega un po ai nostri amici come si utilizzano allora lo spiego io no spiegati ci stanno pure le strutture ecco le nuolette ciao grazie visto ci stanno le strutture li pure qua ah ma io faccio subito però dai quindi allora si prende così qui è un po' difficile sì queste tre dita si deve muovere la pacchetta vedete così io le spezzo per mangiarle meglio non c'è che riesco a farle è una cosa molto buona sembra che non è buona ma è buonissima c'è allora avu ha preso il vegetariano eccolo qua vegetale vai avu questo è tutto per te ecco ci devo fare la foto vai lo vuoi tagliare ma te lo mangi tutto insieme ce la fai allora 3 2 1 è tutto in bocca l'ho messo non ce la fai non ce la fai non ce la fai no sono scelta ci si mi direi vado mamma perché guardi da un'altra parte da un'altra parte eccola sushi sushi mia mamma fa tutto in un boccone eh basta così eccolo questo c'era no come qua eh sì ci sta si vede ah riso sa test vegetariano raga io non lo mangio ora perché c'è anche questo 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 c'è che ha provato qualcosa ci stanno ci stanno se ci stanno ci stanno sti due occhi e la bocca però son sotto è strano ah ah sì è carino sì simpatico Ma te lo sei mangiato? Mamma! Che sei bello! Mangia mamma! A mia mamma gli piace! Mamma va a sortirà! Ma guardami che figo! Novità! No! Zuppe! No no no! Primi piatti cinesi! Questo va bello che sto mangiando ora! Non lo so! Mangia! Mangiamo le cinesi! Mamma mia che bucone! Questo mi fa più buono di quell'altro! Ci sta la Philadelphia dentro! Vero? Sì! Buono? Che carino! Questo coniglie! L'altra volta l'abbiamo preso, ti ricordi? Sì! Vediamo che c'è dentro! Un pan dolce! Un pan dolce! Ah è un pane dolce! Vedi? Ma carino! Il mio sushi! Il mio sushi! Oh! Guarda andiamoci dentro! Vabbè poi c'è mamma! Guarda! Guarda! Che carino questo! E' quello zapperano! Guarda! Andiamo dentro! è buono sembra sembra buono si hai fatto mamma l'hai fatto mamma ma scotta successo pieno il mio sushi che adesso ci dobbiamo entrare dentro ma guardate quanto è buono ma ragazzi abbiamo finito il pranzo ci vediamo noi siamo piene io volo acqua vola è un uccellino con le piume blu mi sto sollevando veramente iscrivetevi al canale cliccate la campanellina seguitici per altri negli altri video ho detto tutto io e iscrivetevi ciao al prossimo video